Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video che non è mio questo! Io sono XIUDER e ragazzi andiamo a vedere le posizioni di tutti e cinque gli elmetti, quelli per sbloccare i nostri stili della skin. In singolarità, il primo ragazzi come state vedendo si trova vicino all'impianto a pressione ragazzi e più precisamente dove vi faccio vedere in questo momento, che come sempre non sono io, ma ve lo faccio vedere ugualmente, dovete spostarvi dietro al robot e come vedete qua in basso nel secondo piano troverete l'elmetto rosa che ci darà lo stile del Cuddle Team Leader. Ma andando avanti ragazzi c'è un altro elmetto, il numero due, che è quello molto probabilmente vicino a sponde del saccheggio ragazzi. Come state vedendo si arriva molto tranquillamente nella parte di destra di sponde del saccheggio e in quell'angolino alla mia destra, alla vostra destra, come state vedendo, ecco qua disponibile il secondo elmetto, quello che ci darà la versione del Rex. Proseguiamo ragazzi lasciandoci alle spalle, sponde del saccheggio e si va ancora dritti, passiamo e arriviamo a neopinnacoli in direzione del terzo elmetto disponibile. Vi ricordo sono già usciti tutti e cinque, il terzo si trova proprio ai piedi della statua principale che è proprio la skin singolarità qui a neo inclinata ragazzi. Dobbiamo semplicemente guardare sopra il terrazzo che dà esattamente alla statua per trovare l'elmetto numero tre, il colore viola che dovrebbe essere, se non ricordo male, il nostro burger style. Non è molto distante il quarto e penultimo elmetto che si trova invece vicino alla piattaforma aerea, quella dove c'è la palla gigante, vicino, anzi alla base, dei tre alberi che vi sto facendo vedere in questo momento, esattamente tra questi due. Basta semplicemente andare ai piedi di quest'albero e in questo punto, come vedete, semi nascosto c'è l'elmetto numero quattro. Ma come vi stavo anticipando, gli elmetti sono cinque ragazzi e quindi l'ultimo lo andremo a recuperare nel bioma ghiacciato, in poche parole dove c'era l'ex picco polare. Bisogna raggiungere la discesa ragazzi, quella che è la frana, la valanga, quella che appunto è stata causata dall'uscita del mostro e come vedete ragazzi, proprio in questo punto dovrebbe essere nascosto dietro una cassa, eccolo qua, c'è l'elmetto e ultimo il numero cinque ragazzi. Quindi con questa guida potrete sbloccare tutte e cinque gli stili di singolarità. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live, ciao!